Posso addormentarvi senza parlare. No, in realtà ho cercato di impostare queste poche, ho cercato di farne davvero poche slide. Mi metto di qua. Se tu riprendi solo lo schermo, poi ogni tanto quando voglio apparire ci vengo davanti io, non è un problema. Ho cercato di mettere poche slide sulle quali lanciare alcuni concetti. Il mio obiettivo sarebbe di non stare qui da solo a parlare per un'ora e farvi crollare miseramente nella sonnolenza pomeridiana, ma cercare di scatenare una qualche sorta di dibattito, contributo o altro. Quindi sentitevi assolutamente liberi di intervenire, alzare la mano, portare vostre esperienze, idee. Magari dico anche qualche sciocchezza se secondo voi sto dicendo cose che meritano una parola di più o vanno discusse, sono qui apposta. Va bene, mi chiamo Alessio, chi frequenta le mailing list che si occupano di security mi conosce come Mayem, perché parlo di sicurezza, perché è quello che faccio 20 ore al giorno per lavoro, quindi è una delle, forse l'unica cosa che so fare in qualche modo e ne so parlare, avendo una vaga idea di che cosa sto parlando. Sicurezza informatica che per me non è esclusivamente qualcosa che ha a che fare col ricevere uno stipendio a fine mese, ma è qualcosa che ha a che fare con la vita di tutti i giorni. Uno dei motivi che mi spinge a dire cosa faccio di sabato pomeriggio, aspetta che vado a quell'evento anziché stare a casa sul divano a guardarmi un enorme film porno, è proprio il fatto del quanto questa nuova tecnologia, perché ce la vendono così sui giornali, sia pervasiva nelle nostre vite e quanto queste tecnologie possono avere in qualche modo pausa aereo. Un impatto sulla nostra vita di tutti i giorni e il motivo per cui collaboro, sono iscritto o partecipo a qualche titolo a un enorme pletora di associazioni no profit che hanno come scopo quello di organizzare eventi che parlano con le persone di sicurezza informatica, è proprio la consapevolezza che a volte ci sono dei rischi che la tecnologia sottende che se non vengono analizzati prima, nel momento in cui vado ad adottare una tecnologia pensando di facilitarmi la vita, si trasformano in un enorme boomerang che mi ritorna addosso, quindi awareness, parlare, discutere con le persone per me è fondamentale per capire che cosa ci sta intorno, cosa sta succedendo, come difenderci in qualche modo da cose che potrebbero minacciarci anche se non sembra. E oggi a proposito di questo parliamo di virtualizzazione, una cosa assolutamente di moda, non c'è giornale informatico in edicola che non contenga almeno un articolo che ci descrive le meraviglie della virtualizzazione, di quanti soldi ci fa risparmiare, di quante ore di lavoro possiamo risparmiare, di quanta energia ci fa non consumare, quindi tutte cose meravigliosissime che ci racconta ogni commerciale che si rispetti e che ci convincono che questa tecnologia è il bene e va assolutamente adottata. Evidentemente l'obiettivo di questa chiacchierata non vuole essere quello di arrivare al punto in cui si dice no, non va adottata, la tecnologia è buona, fa delle cose meravigliose, se implementata correttamente, se gestita nel modo corretto, se ho idea di che cosa sto facendo e anche se ci sono dei rischi, a quale tipo di rischi mi sto andando a desporre. Quando si parla di virtualizzazione adesso è estremamente di moda dire cloud computing, sposto i miei server su internet o altro, magari facciamo due ragionamenti anche su quello, non sapevo dove scrivere cloud, mi è sembrato corretto metterlo nel sottotitolo. Giusto per dire, parliamo anche di quello, è pericolosissimo questo estintore. Allora, evidentemente uno delle minacce che ci troviamo ad affrontare, parlando di virtualizzazione che si trova in letteratura, direi da sempre, è il fatto che se io ho un'enorme macchina di ferro che gestisce tante macchine virtuali, devo stare molto attento a non trovarmi nella situazione in cui qualcuno che utilizza una delle macchine virtuali sia in grado di scendere sotto, saltare fuori dalla macchina virtuale e andare ad amministrare quello che si chiama hypervisor, il pezzo di ferro, quel software che gestisce le macchine virtuali. Se qualcuno si trova in grado di fare questo tipo di operazione, evidentemente può andare a riconfigurare tutte le altre macchine virtuali, servizi, eccetera, tutti gli altri dati, cosa che evidentemente non mi è molto gradita. Su questo abbiamo avuto tantissimi esempi in passato, multi-vendor, quindi non c'è una tecnologia particolarmente, o un prodotto di mercato particolarmente baccato da questo punto di vista. Tutti i prodotti hanno avuto i loro bug, hanno avuto le loro patch, la cosa importante è sapere che il rischio esiste e andare a mettere la patch quando esce, quindi seguire man mano che vengono annunciate queste cose. Evidentemente se è un problema che si può etichettare a rischio estremamente basso, magari all'interno di un'azienda privata, dove ho la mia macchina che gestisce le mie macchine con i miei servizi e gli utenti magari accedono solo alla posta e ai file, pensiamo ad esempio ad un grosso provider che le macchine virtuali le affitta degli utenti esterni che pagano. Non è pensabile che io, cliente di Virtuo, Top Host, che giusto in questi giorni ha fatto molto clamore sui giornali, o altri servizi analoghi, sia in grado di andare a vedere che cosa c'è nelle macchine virtuali degli altri clienti di quell'azienda, impensabile. Questo è uno dei rischi che vanno in qualche modo affrontati e gestiti. Qui si parla di errori che sono rimasti all'interno del software di gestione della virtualizzazione. Se ne è parlato tanto, se ne parlerà ancora, ne usciranno ancora vulnerabilità di questo tipo, è abbastanza inevitabile, il software perfetto non esiste. Quindi qui siamo nell'ambito di cose assolutamente conosciute. Mentre ad esempio qualcosa che abbastanza recentemente ci viene raccontato da, non voglio dire stampa specialistica, ma da chi si occupa di alcuni aspetti, è ad esempio il fatto che alcune minacce tradizionali che già conosciamo e siamo abituati a fronteggiare, quindi Trojan, Backdoor, Rootkit e via dicendo, comincino a rendersi conto che è importante capire se sono in un ambiente virtuale o no. Quindi a tutte le classiche tecniche di mi accorgo se viene fatto girare qualcosa per individuarmi, mi disattivo se ritengo che le condizioni in cui sta operando, la macchina sulla quale sono installato non siano particolarmente buone o se mi trovo in condizione ideale mi accendo e offro certe funzionalità, molti di questi software oggi cominciano a tenere in considerazione la virtualizzazione. Banalmente se sono installato su una macchina, guardare il mio MAC address e sapere se sono una macchina virtuale, le macchine virtuali hanno un MAC address che è stato rilasciato a VMware ad esempio, piuttosto che a Xen, piuttosto che a qualcun altro che gestisce quel prodotto, sapere che sono su una macchina virtuale è banale, da lì posso prendere un'enormità di decisioni, ad esempio dire ok sono un programma assolutamente innocuo, non faccio niente ma se il MAC address, pensate ad un worm fatto così che si propaga, ma se il mio MAC address è quello di un vendor di macchine virtuali, allora provo in serie una serie di exploit che mi provano a far saltare fuori dalla macchina virtuale per prendere possesso dell'hypervisor, se ci riesco allora mando una mail, mi collego a IRC, faccio qualcosa per avvisare il mio creatore che ho compromesso un ulteriore host. Quindi esempi di questo tipo cominciano ad apparirne in discreta quantità, utilizzo la memoria in un certo tipo, gestisco le risorse in un certo modo, ognuno sta provando ad adattare le cose nel modo corretto, addirittura per l'anti-forensic, una delle tecniche che si usano per andare a vedere che cosa c'è dentro una macchina, che dati c'erano, che software, che cosa è stato fatto, esempio quello del sequestro, la prova, attacco il write blocker, acquisisco l'immagine che sta sulla macchina, poi sapendo che ho preservato l'integrità della prova di partenza, con la copia che ne ho fatto ci posso fare n cose, ad esempio usare un programma e farla partire come macchina virtuale per vedere cosa fa, come mai, perché, scrivere un programmino che dice allora questo è il mio MAC address e se vengo acceso con un MAC address diverso brasa tutto, è abbastanza semplice, tra virgolette, quindi software che cercano di interfacciarsi col problema virtualizzazione ce ne sono già diversi e questo può effettivamente rappresentare una minaccia di qualche tipo. In più vengono introdotti delle problematiche che prima non eravamo abituati ad affrontare, un esempio, io sono l'amministratore di sistema di un'azienda, c'è un server, un file server che contiene tutti i dati dell'azienda, quindi dall'ufficio commerciale, all'ufficio amministrativo, al consiglio di amministrazione, magari mi è stato chiesto di configurare quella macchina correttamente in modo che neanche l'amministratore di sistema, ad esempio, possa andare a leggere i file che salva il consiglio di amministrazione. E sono state messe in piedi una serie di protezioni per cui è evidente che l'amministratore, in quanto amministratore in qualsiasi momento può riprendersi il diritto di andare a vedere quei file, ma se lo fa ne resta tracce in qualche modo. Che alternative avevo prima? Allora, o scatenavo questa procedura che mi faceva scoprire o mi rubavo il server o l'hard disk con sopra i dati. Comunque venivo scoperto in qualche modo. Se questa macchina da fisica diventa virtuale, finché la macchina è accesa e sta funzionando, io faccio tasto destro, clona, faccio una copia della macchina e sulla macchina che nessuno sa che ho copiato, nessuno può andare a guardare, io ci vado a fare tutte le operazioni che voglio. Quindi scateno con la procedura che mi mette in grado di vedere i dati, ma nessuno si renderà conto che io sono andato a vedere quei dati. Ho fatto una copia della macchina virtuale, la caccio su una chiavetta USB, su un hard disk esterno o altro e me la porto via, la vendo ad un concorrente. Questa era una minaccia che prima era legata a un oggetto fisico, mi dovevano rubare il server o fare una copia dei dati che stavano dentro accedendoci in qualche modo. Adesso qui evidentemente l'effort che sono costretto a mettere in questo tipo di operazione è estremamente diverso e apre dei nuovi scenari che in qualche modo vanno e si possono affrontare. L'importante è sapere che queste cose possono succedere. Qualcuno ha esperienze di macchine virtuali rubate, di cose strane successe, nessuno che voglia fare... Non che si sappia, è una buona risposta. O non si vuole dire, può essere, può essere. Quello su cui mi interessava concentrarmi un pochino di più sulle prossime slide è qualcosa che invece si sposta di più sull'argomento traffico di gestione e non voglio dire corretta installazione, ma una pianificazione del come le cose funzioneranno che mi mette in grado di escludere alcuni tipi di minacce. Mi interessa parlarne perché, perché per mia esperienza personale quindi non è detto che sia universalmente corretta uno degli errori più comuni che si fanno ad esempio è non configurare correttamente la rete per supportare questo tipo di servizi. Se io prima avevo dieci server e li ho virtualizzati io adesso avrò magari uno, due, cinque pezzi di ferro che gestiscono quei servizi e le mie dieci macchine virtuali. Le dieci macchine virtuali continueranno a funzionare come hanno sempre fatto continueranno ad avere loro indirizzo IP, continueranno a fare tutto quello che hanno sempre fatto evidentemente in più io ho una infrastruttura per gestire quelle dieci macchine virtuali che prima non avevo. Cosa me ne faccio? Dove la metto? Quindi avrò un'interfaccia di amministrazione per entrare e dire accendi e spegni la macchina virtuale piuttosto che riconfigurala dagli più RAM avrò uno storage che avrà degli IP per dire questi hard disk li mettiamo in RAID 5 li mettiamo in RAID 10 quante partition facciamo sullo storage e via dicendo. Mi si presentano in rete una serie di elementi in più che da qualche parte devo mettere. Tutte queste cose in più che non servono direttamente all'utente per lavorare sui dati ma servono a me amministratore di rete per gestire le infrastrutture evidentemente sono tutti strumenti di gestione strumenti di gestione che per funzionare correttamente hanno bisogno di diversi tipi di traffico di servizio che viene generato in qualche modo dagli hypervisor se dico hypervisor di tipo 1 o 2 almeno una persona che mi dica non so cos'è così vi dico la differenza, perfetto se io scarico io perdonatemi so di non essere politically correct farò gli esempi con VMware perché è quello che conosco meglio ma evidentemente tutte le stesse cose si portano sugli altri prodotti se io scarico dal sito di VMware, VMware Server è un programma che posso installare su Windows o su Linux e mi fa girare delle macchine virtuali il contro da un punto di vista security di questo programma è che comunque soffre di tutta una serie di vizi che ha il sistema operativo di base sul quale l'ho installato se io voglio fare un server che gestisce pausa aereo era una scusa mi avete scoperto se io voglio fare un server che gestisce n macchine virtuali con un hypervisor di tipo 1 tipo il VMware Server devo installare Windows, Linux o qualcos'altro sul mio computer, sul mio server e poi creare le macchine virtuali gli hypervisor di tipo 2 invece sono quelli che non richiedono un sistema operativo per gestirli VMware, SX, Xen questi sono esempi di hypervisor di tipo 2 io quando installo Xen non installo Windows però puoi installare Xen prendo il CD di Xen lo metto dentro e installo quello sul server e poi quello gestisce le macchine virtuali nel secondo caso tutti i problemi per esempio di bug che possono creare il problema del esco dalla virtual machine sono bug dell'hypervisor quindi di quel programma in particolare nel caso dell'hypervisor di tipo 1 quindi il programma che installo su un sistema operativo magari è una combinazione di un problema di quel programma e del sistema operativo che lo ospita quindi quando uso un hypervisor di tipo 2 sto tagliando fuori tutta una serie di problemi di interazioni e tipicamente ho anche un pochino più di performance perché l'hypervisor di tipo 2 parla direttamente con l'hardware mentre quello di tipo 1 deve parlare con i driver del sistema operativo che lo ospita quindi queste traduzioni fanno perdere un po' di tempo quindi sapere anche che tipo di gestione sto adottando mi aiuta a mettere in piedi determinati meccanismi alcuni dei quali sono disponibili altri no se io sto usando un hypervisor di tipo 2 posso usare le VLAN posso fare virtual switch che fanno cose strane cioè ho degli strumenti a disposizione che l'hypervisor di tipo 1 ad esempio non mi mette a disposizione non tutti gli hypervisor di tipo 1 mi permettono di creare delle virtual LAN per separare di diversi tipi di traffico o altro parlavamo di traffico di servizio che è quello che mi interessa quel traffico di servizio in realtà potrebbe anche non contenere dei dati ma serve soltanto a far funzionare correttamente l'infrastruttura ma se io mi metto nella condizione di manipolarlo in qualche modo evidentemente il primo risultato potrebbe essere ho fatto smettere di funzionare quel data center se sono stato particolarmente bravo o fortunato e quella rete ha degli altri problemi magari sono pure in grado di andarmi a prendere i dati qual è questo traffico di servizio? allora evidentemente c'è un accesso a tutta la parte amministrativa è evidente che se io metto in LAN lo storage aziendale con un IP che risponde a storage.azienda e si entra facendo admin-admin magari magari qualcuno si può collegare e se non si fa una coppia di tutti i dati banalmente dice aspetta riconfigura i dischi così e perde tutti i dati che c'erano sopra quindi rendere quella risorsa in qualche modo accessibile potrebbe essere un problema lo stesso per l'interfaccia di gestione delle macchine virtuali se io riesco ad arrivare lì dentro con le macchine virtuali con gli switch con le schede di rete con gli indirizzi col fatto che uno switch virtuale possa supportare lo sniffing oppure no sono tutti tasto destro e clicca da qualche parte quindi veramente di una banalità sconcertante in più un altro dei traffic di servizio che possiamo osservare per far funzionare correttamente le cose è il fatto che sono messi in piedi un cluster i pezzi che compongono questo cluster si parlano tra di loro per capire se tutto sta funzionando correttamente banalmente una delle politiche più comunemente accettate è se ho un cluster fatto di due nodi nodo 1 prova a parlare col nodo 2 se non si riesce presume che il nodo 2 sia rotto il nodo 2 prova a fare la stessa cosa chiaramente se uno si è rotto quello che è ancora acceso prenderà il controllo di tutto questo purtroppo però mi mette in una situazione strana ad esempio se si rompe lo switch perché i nodi sono tutti e due accesi tutti e due stanno funzionando correttamente ma nessuno dei due è in grado di parlare con l'altro allora lì vado a ricorrere a test di cose esterne tipo chi pinga il default gateway non solo è quello vivo ma è quello che è ancora in grado di parlare col mondo esterno e l'altro lo consideriamo morto tutte queste qui sono cose che io posso configurare appunto tasto destro e click da qualche parte nell'interfaccia di management per spiegare al sistema come reagire a fronte di un guasto se si rompe un nodo spegni le macchine virtuali che non mi servono per i servizi secondari e quelle importanti spostarle tutte sul nodo che funziona e questo spostamento molto spesso comporta un reboot quindi viene spenta la macchina virtuale e riaccesa sul nodo dove correttamente possono essere svolte le operazioni se invece sto operando in un cluster funzionante io ho la possibilità senza spendere la macchina dire prendi questa macchina qua tasto destro spostamela dal primo nodo al secondo dal primo storage al secondo posso fare tutta una serie di operazioni importanti che mi aiutano ad esempio a dire togli tutte le macchine dal primo nodo del cluster perché così gli applico le patch finché tutte le macchine virtuali stanno sul secondo in questo modo metto le patch senza aver mai fermato l'azienda o i servizi evidentemente parlavamo di storage quindi un contenitore di dati dove butto dentro tutte quante le cose ne esistono di tipi diversi ci sono quelli in fibra ottica usatissimi perché sono per quanto molto costosi estremamente veloci e spesso affidabili molto spesso per fare alcune cose particolari si usa uno storage ai scasi che è un protocollo come dice il nome in qualche modo a che fare con lo scasi ma parla IP quindi passa sul vostro switch o NFS che conosciamo da qualche decina di anni è quello che usano tutte le macchine Unix con le quali che voglio è l'equivalente delle condivisioni di Windows sotto Unix questo è traffico IP che io posso intercettare guardare vedere sapere che cosa fa o altro tutto questo traffico dicevamo non è fondamentale per l'utente per lavorare nel senso che l'utente che lavora fa il suo traffico col server che pubblica i file ma questo è indispensabile perché quel server che pubblica i file funzioni nel modo corretto e sia in grado di pubblicare quei dati io questo traffico in qualche modo lo devo difendere devo fare in modo che nessuno possa giocare con queste funzionalità producendomi dei danni cosa posso fare per proteggerlo intanto c'è qualcuno di voi che usa queste cose che le conosce che l'avvocato secondo me tutti i giorni migra macchine virtuali qualcuno che lavori con queste cose ho detto la verità spostiamo le macchine finché sono accese da una parte all'altra c'è una cosa meravigliosa i commerciali ce la decantano in maniera fantastica funziona al 99% qualche volta qualche problema c'è ma spesso funziona ecco stai già dicendo una cosa importante di là nel microfono sul vmotion vmware suggerisce traffico gigabit dedicato quindi se non ho un gigabit tra un nodo e l'altro non è detto che la migrazione tra un nodo e l'altro della macchina virtuale vada a buon fine poi a 100 megabit magari va lo stesso però magari ci metto un quarto d'ora invece di un minuto magari perdo ping magari mi crash anche il file system della macchina virtuale è detto una frase importantissima vmware suggerisce un gigabit dedicato allora si 200 megabit è una morte atroce di attesa a guardare la barretta che va avanti e non si sa se finirà o meno si c'è dedicato allora dedicato ha due significati contemporaneamente dedicato significa non voglio che ci sia dell'altro traffico su quel segmento di rete perché quel traffico rallenterà in qualche modo l'operazione che sto facendo suggerisce è quasi mandatorio è richiesto a parer mio uno switch a 100 megabit per fare queste cose è inutilizzabile dedicato però significa anche che non ci sia altra roba in quella rete che interagisce con quel traffico non solo per un problema di performance ma anche per un problema di security vedremo quindi che approccio posso utilizzare allora capito che c'è del traffico che posso identificare in maniera piuttosto precisa identificato allora intanto lo voglio dividere dal resto dividere significa appunto ho una rete dedicata per Vmotion ho una rete dedicata per gli storage ho una rete dedicata per gli IP amministrativi dell'interfaccia web dello storage di questo e dell'altro dopo che ho diviso io posso decidere chi può accedere a cosa allora è evidente che i nodi del cluster potranno parlare con lo storage ai scasi perché devono parlarci ma magari i client della rete non ci parleranno se ho diviso e filtrato posso dire che gli amministratori di rete hanno la possibilità di arrivare alla pagina di login della console amministrativa mentre gli utenti della rete o delle filiali della mia azienda magari anche no allora comunque avere admin come dicevamo prima non è una grandissima idea nonostante sia quasi prassi ma comunque anche se mi fosse dimenticato di cambiare la password almeno sono sicuro che lì ci può arrivare soltanto della gente che ho scelto io poi magari faranno dei danni comunque ma intanto ho in qualche modo spaccato le cose e selezionato chi può accedere a cosa in più già che lo sto filtrando posso andare a guardarci dentro per vedere che cosa sta passando quindi pensiamo a IDS in line piuttosto che altre tecnologie che sono in grado di analizzare il traffico e decidere se è buono o cattivo ok qui ci deve passare dell'HTTP però ci guardo dentro che non si stia provando a replicare un worm se questo è il caso chiudo quella transazione o scateno un alert di qualche tipo quindi un approccio che mi porta a isolare i diversi componenti per poterli gestire nel modo corretto è quasi l'unica strada assolutamente mandatoria per poter dire quegli strumenti meravigliosi non mi si ritorceranno contro e non smetterà di funzionare tutto di botto mentre se avesse avuto ancora dei server fisici avrebbe funzionato tutto correttamente i disegni si vedono in maniera drammatica tenderei a dire usate la fantasia se questo è uno storage e questo è la mia macchina che fa girare n macchine virtuali questo server fisico avrà un certo numero di schede di rete quel certo numero di schede di rete io posso decidere che facciano le cose più diverse perché per esempio io posso dire che queste due schede di rete le uso solo per la parte di management queste schede di rete le dedico alle macchine virtuali per poter fare il loro traffico questo è un approccio molto bello da un punto di vista security perché ho proprio fatto una divisione fisica magari pure su switch diversi economicamente parlando potrebbe essere un problema perché sto sprecando due schede magari a un giga per far passare l'amministrazione via web del cluster dove se fosse anche in UMTS funzionerebbe bene comunque quindi molto spesso l'approccio che si usa è dire prendo tutte le schede di rete le configuro come se fosse un'unica grossa scheda di rete faccio un trunk e faccio passare lì dentro tutto il traffico però non tutto insieme cioè lo stesso cavo non significa la stessa rete uso IP diversi uso VLAN diverse questo significa che alcuni tipi di traffico non vanno ad interagire con gli altri qui dipende un po' dalla mia infrastruttura la cosa voglio fare che tipo di risorse economiche prestazionali ho a disposizione mi permette di disegnare la mia rete in maniera da poter dividere tutta la parte servizi di gestione da tutta la parte servizi che pubblico agli utenti per lavorare davvero se questa smette di funzionare se ne accorgono tutti e mi assassinano se sono l'amministratore di rete se qua non riesco a collegarmi alla consola amministrativa ok ho un grosso problema lo dovrò gestire ma intanto gli utenti stanno lavorando e il mio telefono non continua a suonare l'amministratore delegato non verrà a chiedermi perché ho bloccato tutta l'azienda secondo disegno illegibile voleva raccontare un po' che cosa succede su questa rete di gestione come dicevamo prima ci sono dei pezzi di ferro che sono fisicamente collegati a questa rete che fanno girare dei servizi non essenziali del tipo la connessione SSH per poter gestire queste macchine la console via web per poter fare tasto destro migra la macchina tool di terze parti che mi permettono di fare alcune funzionalità tipo replicare le macchine virtuali in un sito remoto per fare disaster recovery piuttosto che altri tool di security tutta questa roba la voglio far passare qui dentro per poterci giocare nel modo corretto cosa succede se io non adotto un approccio di questo tipo e vado a mischiare queste funzioni di servizio con il traffico normale a che tipo di rischio mi sto andando ad esporre il primo che mi viene in mente abbiamo detto i nodi per decidere chi è sta funzionando correttamente si pingano tra di loro e pingano il default gateway per decidere chi è che può davvero parlare con l'esterno se io riesco a mettermi la condizione ad esempio di saturare la possibilità del default gateway di rispondere agli cmp come dico controllano molto spesso significa che fanno ping se io saturo gli cmp verso il default gateway se il default gateway non risponde i nodi cominciano a pensare di essere isolati e magari cominciano a spegnere le macchine virtuali cominciano a spegnerle e riaccenderle sull'altro nodo ognuno dei due nodi crede di essere isolato quindi butta giù tutto sperando che l'altro lo riaccenda l'altro l'ho realizzato un Daniel of service assolutamente eccezionale con degli cmp in lan non bene questa è una cosa che vorrei in qualche modo evitare che succedesse sulla mia rete qualcuno che ha avuto brutte esperienze di HA che fa cose terribili fortunatamente no quindi a nessuno è mai capitato di avere un cliente che dice aspetta che c'è questo nodo che è attaccato su questa porta che è disparito tutti i nodi devono essere attaccati su delle porte pari perché qui la nostra policy aziendale dice così allora stacca un attimo il cavo per metterlo sulla porta sopra un attimo e quel nodo dice ah non vedo più la rete e spegne tutte le macchine virtuali e le riaccende dall'altra parte no no si riaccendono e funzionano ma se uno era un terminal server che teneva su una 20-30 persone è un discreto problema perché quelle 20-30 persone si vedono chiudere in faccia tutto quello che stavano facendo se una di quelle macchine era un server di database che va giù così non è detto che il suo stato sia ancora consistente quando tornerà su poi quindi con dei ping posso creare dei danni drammatici e anche il non sapere come questa cosa funziona all'interno della mia rete cioè il misero spostamento di un cavetto da una porta all'altra può creare dei danni totali e globali a nessuno e mai succedere c'è gli assoluti clienti che spostano le cose da una porta all'altra si? eh ma aspetta perché dice pari ma pari nella prima decina o nella seconda decina perché poi eh bravo magari c'è lo spanning tree attivato per cui 15 secondi non servono non servono a niente non ci fai niente in 15 secondi con lo spanning tree quindi già qui non mi stanno rubando nessun tipo di dato ma già non stanno facendo funzionare i miei servizi evidentemente evidentemente se tutte le mie interfacce amministrative sono in LAN esporsi a un rischio di brute force è evidentemente fortissimo c'è un'interfaccina web io mi scarico Hydra da internet e provare 4 password i dizionari non mi smetterò non mi stancherò mai di ripeterlo esistono in tutte le lingue quindi anche in italiano ehm si fa come dicevamo prima tutti i prodotti hanno i loro bug eh magari se quel host è in una rete non raggiungibile dalla macchina che lo vuole compromettere non riescono a far girare l'exploit se invece è l'inlan problemone lo posso fare tante delle funzionalità amministrative di questi bei giochi di macchine virtuali si parlano utilizzando delle cose in xml via web sop web services e cose del genere eh dire web services e sicurezza nella stessa frase è uno simoro non si fa eh qui di vulnerabilità eh che ci raccontano di come può essere manipolato l'url per far fare certe cose di informazioni che possono essere carpite eh facendo richieste particolari scrivendo certe cose nel browser certe cose significa magari mettere un po' di puntini un po' di slash vero non stiamo parlando di cose eh rocket science molto strane e normalmente sono stringhe orribili che uno che sta leggendo l'articolo su internet fa copia incolla nel browser invio l'unica cosa che l'unica accortezza è cambiare l'indirizzo IP e mettere quello della macchina che si vuole eh testare quindi tutte queste cose se le macchine sono nella stessa VLAN dei client o la VLAN di management è raggiungibile da tutti chiunque comunque da dovunque sono una minaccia quantomeno da affrontare e da tenere presente già se io ho filtrato e ci ho messo un IPS davanti ok è ancora una minaccia perché non posso essere sicuro al 100% che nessuno riuscirà a forzare la protezione che ho messo però ho modificato di molto il profilo del rischio questo poi parlando di cose che conosco questo è un netstat fatto sulla macchina VMware SX dicendo fammi vedere le porte TCP che sono aperte senza wrapper senza cose è una discreta quantità già dire va bene l'SSH mi sta bene perché a me tasto destro clic dà un po' fastidio se posso darlo da riga di comando lo preferisco che ci sia un interfaccio in HTTPS per fare alcune cose mi può stare bene già l'HTTP insomma mi infastidisce un pochino se non ci fosse lo preferirei se si potesse disabilitare se non fosse da documentazione mandatorio tenerlo attivo e che risponda alle richieste e gli altri servizi chissà cosa saranno cosa fanno che tipo di informazioni danno quindi banalmente a macchina installata dare per scontato parla solo con l'hypervisor con la console di gestione non è non è proprio una grande idea ci sono questa è una macchina anche configurata quasi decentemente ci sono tante cose che vanno in qualche modo protette ok questa sono costretto a tenerla aperta e che dia le risposte ma magari faccio in modo che sia accessibile soltanto all'interno della VLAN di management mentre per cose che devo fare dall'esterno della VLAN di management rendo disponibile solo quelle in HTTPS per chi deve usarla in questo modo crypto il traffico e mi sento un pochino più tranquillo che non a mandarlo fuori tutto in chiaro roba che va a queste porte qua deve stare in quella VLAN non ha senso che vada su VLAN esterne o che sia accessibile quindi mi posso permettere di andare granularmente a giocare un po' con questi parametri qualcuno che giochi con le regole di firewalling indipendentemente dalla policy già il fatto del so che ci sono le regole di firewalling su l'hypervisor non è un'informazione scontata perché in molti lo ignorano e anche chi lo sa andarlo a configurare insomma non è sempre qualcosa da dare per buono dicevamo prima roba che parlo via IP questa sempre il solito aereo che mi dà la scusa se questo è traffico IP che io sono in grado in qualche modo di vedere passare prima cosa che posso fare è disruption far funzionare male il servizio ai scasi perché è bello perché se ha una rete di nuovo dedicata c'è scritto in tutte le best practice sempre a giga o più mi permette di accedere in maniera molto veloce ai dati se io vado a saturare quella rete lì non accedo più ai dati alle mie macchine virtuali spariscono i dischi non vedono più il disco del sistema operativo dei dati quindi ho un discreto problema NFS va bene lo conosciamo e questo in qualche modo lo posso gestire faccio una VLAN dedicata all'hypervisor che parla con lo storage ai scasi o NFS quello in fibra diciamo che comunemente non dovrebbe essere raggiungibile via IP per dove passano i dati non dovrebbe si poi comunque anche quelli non over IP fanno passare delle cose poi si mischia le fibre allora giochi ce ne sono N se uno fa un po' di confusione diciamo che in una cosa pulita dove prendo un cavo e lo attacco da qui a lì su quel cavo nessuno dovrebbe essere in grave farci niente perché attaccato su due cose non c'è neanche uno switch in mezzo per cui si spera che però il problema è che molto spesso ad esempio voglio mettere uno storage in replica con uno in un'altra città in un altro edificio in un altro piano del mio palazzo perché dico se va a fuoco la sala server voglio avere una coppia dei dati nell'altro piano se viene il terremoto e mi rada al suolo il palazzo voglio avere una coppia dei miei dati in un'altra città sono cose che si fanno assolutamente in maniera economica molto spesso per alcune aziende sono addirittura dei requirements legali quindi si fanno abbastanza spesso e banalmente però se questo traffico di replica dei dati non è sicuro non è autenticato non è criptato e gli faccio attraversare il mondo evidentemente chi è in grado di intercettare questo traffico banalmente vede passare i miei dati adesso bisogna vedere in che modo come o altro se si è in grado di ricostruirlo di capire che cosa è passato se ne è trasmesso tutto il dato soltanto la differenza non sto dicendo che è una cosa banale ma mi apre lo scenario del chi è che è in grado di vedere i miei dati passare e potrebbe farci qualcosa non voglio essere in una posizione di rischio voglio andare a minimizzarlo il più possibile qualcuno che gestisca siti di disaster recovery brutte esperienze di traffico disrupted se la vicinanza dell'avvocato li timorisce a parer mio anche se curare il link succede però a volte sulle prime repliche perché porti di là tutto insomma poi quando va a regime è comunque buono cioè ci potevi fare un sacco di cose tipo collegarti a IRC una delle cose che a me hanno intrigato di più in assoluto quando ho letto l'articolo invece è un'altra delle cose che si possono fare col traffico di servizio parlavamo prima di questa funzionalità meravigliosa tasto destro spostami la macchina in virtuale da un'altra parte attenzione che se sono in azienda da me da un'altra parte significa magari dal server che c'è qua al server che sta subito sotto nello stesso armadio dati se sono in un'azienda un pochino più grande significa dal server di Verona al server di Milano se ragioni in ottica cloud significa dal server che sta girando nel data center di Parigi al server che sta nel data center di New York questa attività WMware la chiama WMotion ognuno la chiama insomma un po' come vuole ed è uscito un bellissimo paper che ci racconta come riconfigurare la macchina virtuale mentre viene migrata perché evidentemente per poterla spostare mentre sta accesa io devo accedere a delle informazioni che si chiamano active state della macchina quindi stato della memoria stato del disco stato dei processi cosa sta facendo come si comporta per permettere un passaggio trasparente da una parte all'altra senza spegnere io posso se io mi metto nella posizione di poter manipolare e qui dentro c'è un proof of concept allora ad oggi non c'è un tool funzionante per fare queste cose ma di solito quando siamo al proof of concept la strada per arrivare al nascono gli strumenti non è poi così corta se io quel traffico lo faccio passare alla merced di chiunque possa in qualche modo giocarci sono in una posizione brutta forse vorrei avere una VPN forse vorrei proteggere quel traffico in qualche modo allora se sono esclusivamente del mio armadio da rec è banalissimo faccio una VLAN dedicata a questo traffico e faccio passare quel traffico solo lì dentro già nel data center tra Parigi e New York ho qualche difficoltà in più devo pensare al metterci una VPN o altro ho già anticipato la slide dopo allora devo aver fatto della confusione questa mattina con il mouse perché qui ci doveva essere una slide che non vedo mi date un secondo che se la trovo sotto la riporto sopra eccolo qui se no ho fatto un po' di confusione con l'ordine quella che mi interessava era questo nel momento in cui io apro un canale protetto all'interno del quale faccio passare il traffico che io decido essere trusted quindi il traffico di Vmotion tra un data center e un altro io ho aperto un canale di comunicazione se poi quel canale di comunicazione potrebbe essere usato per fare delle altre cose chi lo sa perché magari mi compromettono il data center di Parigi e riescono ad utilizzare questo canale di traffico trusted per andare a compromettere il data center di New York cioè comunque ho creato un ulteriore punto di accesso a qualcos'altro per andare a proteggere il traffico ho creato una situazione un ideale per un ulteriore attacco quindi queste cose vanno in qualche modo analizzate conosco degli ambienti dove le VPN VPN che è l'acronimo di non Virus Propagation Network no ecco perché spesso le sentite chiamare anche così quindi creare questi mezzi che io do per assunto che siano fidati forse non è da dare proprio così per scontato torno alla slide fuori serie se io sposto cose da una parte all'altra significa che magari una virtual machine infetta da un worm o da altro penso ricordiate tutti da SQL Slammer all'ultimo con Ficker e cose del genere e quanto possono essere stati fastidiosi è evidente che magari se ho un qualcosa di dormiente su una macchina e la sposto da un'altra center a un altro dall'altra parte dove non c'era l'infezione me la sto portando in casa anche se non c'è solo attraverso quel canale fidato e trusted che ho messo in piazzare le cose quindi è evidente che qui più penso in grande più la minaccia si apre ma evidentemente avrò a disposizione delle risorse diverse per poter gestire le cose ma banalmente anche in quella che possiamo chiamare piccola media impresa italiana sposto le cose dal data center di una città ad un altro e mi porto dietro un worm o altro quindi è qualcosa al quale fare un minimo di attenzione anche perché se migration rappresenta un problema dal punto di vista del ho una cosa accesa che va da una parte all'altra e ho fatto un grande piano per tenere sotto controllo che cosa fanno tutte le cose accese forse sto trascurando un piccolissimo aspetto un piccolissimo aspetto che ha a che fare con le macchine chiamiamole dormienti esempio di macchina dormiente allora io sono una persona pigra a me piacciono i computer perché posso delegare a loro delle cose che altrimenti dovrei fare io una delle cose che trovo noiosissime è installare il sistema operativo di un nuovo server alla fine è sempre la stessa operazione fatta sempre allo stesso modo si installa una volta una macchina virtuale pulita dove non ci faccio niente la congelo e dico questo è il mio template è il mio modello e tutte le macchine i nuovi server che farò li faccio partire da questo punto quindi non inserirò mai più il cd di installazione del sistema operativo perché ho la macchina virtuale allora devo creare un nuovo server prendo il mio template e creo il nuovo server e accendo il nuovo server per andare ad installarci le applicazioni e le cose che è necessario installarci sopra la macchina che io sto accendendo forse ha delle policy piuttosto datate per quel che riguarda la security magari la gestione delle password piuttosto che altre impostazioni ha sicuramente un antivirus vecchissimo ci sono template che ho trovato in giro che magari hanno un paio d'anni c'è verso l'antivirus con l'elenco dei virus conosciuti di due anni fa il tempo che io aggiorno il programma aggiorno le firme si dice installo le patch o rinstallo il sistema operativo perché a volte guardi la dimensione dei file da scaricare per mettere le patch un giga di patch dammi un dvd nuovo per installare il sistema operativo che è patch finché tutte queste cose si stanno scaricando installando attivando o altro io ho messo una bomba in rete che è vulnerabile a una quantità di cose totale e globale se questa macchina viene compromessa finché io la sto aggiornando resterà compromessa magari dopo l'aggiornamento questa macchina potrebbe contenere cose che la rendono vulnerabile a cose per cui gli altri server sono già protetti e comincia a propagare un'infezione che altrimenti sarebbe stata assolutamente banale e circoscritta senza contare che le macchine dormienti sono diciamo manipolabili se io ho il controllo dell'hypervisor a tutte le macchine dormienti gli posso fare quello che voglio magari anche senza accenderle come funziona una macchina virtuale cos'è una macchina virtuale è un insieme di file dove ce n'è uno che ne racconta le proprietà come si chiama dove si trovano i suoi file che caratteristiche ha ne ho delle altre che servono per gestire delle cose tipo la RAM il SID o altro e poi un grosso file che tecnicamente è quello che poi il server acceso vedrà come è proprio l'hard disk quel file ha un formato standard e conosciuto se io non accendo questa macchina virtuale ma prendo una macchina virtuale già accesa gli dico aggiungi nuovo disco nuovo esistente esistente dove lo trovo sfoglia e vado a prendere il file di quella macchina virtuale lì io sto vedendo tutto il disco è come se avessi staccato un hard disk da un computer e l'avessi messo dentro un altro ne vedo il contenuto e gli posso fare tutto quello che voglio tutto quello che voglio schedulabile automatizzabile può rientrare nelle operazioni che fa un worm ci si può giocare con queste cose ma il problema è che queste macchine dormienti io sono abituato che ce le ho lì e quando mi servono la tiro su e va e funziona e non c'è nessun problema mentre magari richiederebbero un po' di attenzione cose viste a fare in alcuni ambienti ad esempio avere una VLAN dedicata alle macchine dormienti che vengono accese per la prima volta dopo una certa quantità di tempo questo gli dà il tempo di prendersi le patch di aggiornare l'antivirus di far girare la prima scansione dell'antivirus sull'hard disk per vedere se ci sono cose strane verificare magari che il checksum dei file importanti sia ancora verificato a quel punto e questo è un programma di terze parti ce ne sono n che fanno queste cose che la sta controllando che dice ok siccome hai superato tutta una serie di controlli adesso ti sposto da questa VLAN alla VLAN dove ci sono tutti gli altri server dove dovrai lavorare perché adesso ti reputo una macchina sicura cosa che prima ero un pochino in dubbio e non mi sentivo di dire la stessa cosa stavo dicendo ad Alessio che questa cosa della macchina dei dormienti VMware con l'update manager l'ha risolto vengono spostate su altra macchina riconfigurate aggiornate patchate riaccese questo ogni ora idem il manipolabile funziona su VMware non funziona su Xen dove le macchine virtuali non hanno più un VMX un VMDK ma è totalmente diverso è protetto dal sistema quindi per carità oltre a VMware Xen ci sono anche altri sistemi che usano comunque lo stesso QEMU soffre dello stesso problema quindi di nuovo non volevo parlare di prodotto ma di VMware ha introdotto questa cosa infatti bellissima per il patching ma patcha il sistema operativo patcha il sistema operativo ma ad esempio la riapplicazione delle polisi l'antivirus l'IPS le firme quello non lo fa però ripeto magari c'è il mio produttore di IPS che ha lo strumento per fare quella roba lì il mio produttore di antivirus e ce ne sono ad oggi almeno un paio che fanno queste cose ci sono i prodotti sul mercato cioè non è un problema tecnologico che mi devo inventare una soluzione strana cioè sono prodotti da banco che io vado sullo scaffale li prendo e li faccio andare evidentemente virtualizzazione bellissima i commerciali sono così convincenti in merito a questa cosa che la si legge benissimo mi rendo conto la virtualizzazione è così conveniente e così bella che alcune organizzazioni criminali hanno detto bah visto che alcuni servizi di cloud computing quindi macchine virtuali su internet sono così economici perché non usarle per esempio per mandare spam perché non usarle per gestire the denial of service quindi mi creo non vado a infettare computer in giro per il mondo mi creo la mia botnet di macchine virtuali tanto la pago al minuto secondo utilizzo pago solo il traffico che ho fatto e ci faccio un po' quello che voglio e di questo abbiamo già avuto diversi esempi sono un po' scombinate ho fatto un po' di confusione col mouse sempre in merito al traffico che faccio passare ad esempio tra le virtual machine io anche su quello posso intervenire perché così come sullo switch fisico posso imporre tutta una serie di configurazioni così posso fare sugli switch virtuali io posso addirittura permettermi allora beh il firewall di frontiera quello che mi difende da internet virtualizzarlo è una cattivissima idea quello se sta fuori è meglio lo dico perché si è visto qualche esempio di questo tipo ma avere magari un secondo firewall che divide due virtual switch dove sono le macchine di produzione e uno le macchine di test si può fare senza nessun problema ho una macchina in più da gestire un rule set in più da gestire ho una serie di cose da far funzionare per tenere separate queste reti alternativa ho delle feature dell'hypervisor per fare questo io posso dire all'interno di un virtual switch che quel virtual switch è uno uso una classe IP intera barra 24 quindi in teoria tutte quelle macchine sono sullo stesso switch sulla stessa subnet e si possono parlare in realtà no perché io impongo sul virtual switch che quelle due macchine non si debbano parlare se non per fare questa cosa il rule set lo devo gestire comunque ma ho una macchina in meno magari ho due da gestire fino ad arrivare ai prodotti di terze parti che su queste cose fanno l'inferno ognuno promette poi qualcuno rispetta tutto da vedere ma comunque il prodotto c'è evidentemente finché sto parlando di un prodotto che parla col virtual switch e gli spiega che tipo di traffico fare è un prodotto che riguarda l'hypervisor tipicamente all'interno della mia organizzazione avrò scelto un prodotto che sarà VMware sarà Xen sarà quello che sarà ma quello sto usando poi che abbia un nodo 500 quello è il prodotto e il prodotto di terze parti è per il prodotto che ho scelto però le macchine che ho virtualizzato io ho cominciato a virtualizzare macchine con Linux con Windows diverse versioni di Linux diverse release di Windows magari ho anche altri sistemi operativi o altro magari il mio prodotto di terze parti ha un agent da installare sulle macchine virtuali per affrontare certe minacce o si pensi banalmente a quello che fa il backup della macchina virtuale ok non è raro il caso in cui magari si parta con un prodotto e ci si rende conto a tre quarti che non sono supportati tutti i sistemi operativi per cui ho il prodotto che mi gestisce l'IPS per le macchine Windows che è uno l'IPS che mi gestisce l'IPS per le macchine Unix che è un altro il che significa conosci due prodotti paga due licenze un overed amministrativo non indifferente siamo le considerazioni finali visto che mi hanno fatto anche segno di contenere i minuti uno dei problemi principali del impiegare queste tecnologie è che evidentemente stiamo parlando di raffinare qualcosa cioè se a installare il mio prodotto di virtualizzazione e far partire dieci macchine virtuali sono quattro click velocissimi andare a scrivere un rule set di quali macchine virtuali devono parlare con quali evidentemente richiede un'analisi un'implementazione un test e tutto quanto tempo uguale soldi io devo convincere qualcuno a darmi un budget per poter fare tutte queste implementazioni di sicurezza a volte questo non è proprio così scontato magari il posto dove lavoro o il mio cliente non ha questo approccio alla sicurezza come cosa importante allora questo è uno dei dati hanno informatici questa gente qua sta un po' sulle palle diciamocelo però a volte si possono usare dicono a me questi numeri a volte fanno ridere perché dipende da chi ha pagato lo studio per raccontare che cosa però avere dati da queste fonti da portare al management per dire guarda che esiste una legge una norma che ci obbliga a fare certe cose ci sono delle best practice che raccontano che perché tutto funzioni correttamente bisogna fare certe cose e in più degli analisti di importanza mondiale dicono che la totalità delle perdite dati intrusioni e quant'altro derivano da una non corretta configurazione delle cose magari se mi mettete nella condizione di fare il mio lavoro nel modo corretto ne guadagna l'azienda come dicevo prima il problema non è tecnologico si tratta di trovarsi nelle condizioni di poter fare le cose nel modo corretto ultimo ragionamento per salutarvi un bel esempio che a me piace sempre citare che porta spesso un amico sempre nei confronti del farsi dare del budget la sicurezza viene vista dal management come una spesa inutile come qualche cosa che rende più difficile lavorare mettere tutte quelle password è il ponte elevatoio che mi costringe a stare così ad aspettare quando io devo entrare nel castello per fare business quindi mi stai rallentando mi stai facendo perdere tempo e soldi tu e la tua sicurezza e lasciamo stare gli aggettivi che ci mettono dietro spesso e a queste persone è bene ricordare che in effetti sì il mercato ricordatemi un po' è nato il business dentro alle mura del castello dove i briganti stavano fuori c'era un minimo di protezione c'erano le guardie o ah fuori fuori sembrava anche a me la risposta corretta ecco quindi raccontare a queste persone che quelli che loro avvertono come impedimenti sono le cose che fanno funzionare correttamente quello che usano tutti i giorni a volte aiuta in qualche modo conclusione velocissime usare la virtualizzazione evidentemente come ho detto all'inizio il mio scopo non è dire la virtualizzazione non funziona permette anche di fare più security di quanta ne potrei fare con le macchine fisiche mi da degli strumenti in più a disposizione se sto attento a gestire tutte le cose nel modo corretto al solito l'approccio in fiduocidi avanti avanti invio non porta proprio lontanissimo immagino arrivi il relatore dopo a brevissimo vabbè le slide saranno disponibili licenza creative commons qui c'è la mia mail spero sia giusta lo è se mi scrivete con tempi biblici ma rispondo sempre a tutti direi spazio se ci sono per tre domande prima che mi mandino via se ci sono panico da domande perfetto vi ringrazio e beviamo una birra assieme dopo o aggiungetemi su facebook grazie 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 grazie